Questa è la quarta edizione di Giocami. Giocami è un progetto sviluppato da noi per prevenire i fenomeni di isolamento sociale. Sempre più bambini e ragazzi tendono a isolarsi, abbandonare la scuola e chiudersi nella loro camera. Noi abbiamo pensato di utilizzare il gioco a tavolo come strumento per far riscoprire i piacere di stare insieme e divertirsi e condividere i momenti di gioia. Incontriamo gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie del primo grado, li incontriamo ogni anno circa 100, con un team multidisciplinare li spieghiamo come riconosci questi fenomeni, come fare a prevenire e intervenire in altri momenti più utili. Poi insegniamo come utilizzare il gioco a tavola portandoli in classe per creare un momento di socializzazione. Doniamo il gioco, invitiamo a utilizzarlo in classe e oggi sono qua come giornata finale e premeremo le classi più attive e inviteremo i bambini a giocare. Ci sono circa 10 editori di giochi a tavola con noi e speriamo che sia una bellissima giornata di gioco e di socializzazione.